Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui, come vedete dal titolo, vi parlerò di 5 applicazioni gratuite per il vostro cellulare che appunto vi permetteranno di imparare le lingue. Nell'ultimo periodo mi sono arrivate un pochino di richieste appunto su come io stia affrontando lo studio del tedesco. Mi sembrava quindi interessante farvi un video un pochino generale appunto sullo studio delle lingue straniere, appunto parlandovi appunto di applicazioni che vi permettono di studiare in qualsiasi momento e anche dedicando molto poco tempo durante la giornata, per poi magari dedicare un altro video appunto più specifico alla lingua tedesca. Per l'appunto il metodo delle app è il metodo più facile al giorno d'oggi per imparare una lingua straniera o comunque migliorarsi un pochino alla volta, perché appunto potete dedicarci veramente pochissimo tempo al giorno e senza spendere niente. Però proprio per questo vi parlo di 5 applicazioni gratuite che sto utilizzando più o meno o che comunque conosco in modo tale da imparare meglio non solo il tedesco ma anche altre lingue. La prima, la più famosa e quella che utilizzo un pochino di più è Duolingo, appunto gratuita. Vi permette un pochino di ampliare il vostro vocabolario in una lingua straniera perché inizialmente vi farà associare semplicemente delle parole a delle immagini per poi andare a mettere queste parole all'interno delle frasi fino a farvi tra virgolette tradurre delle frasi intere in questa lingua. Se impostate come lingua nativa, come lingua madre l'italiano, avete a vostra disposizione il corso di inglese, francese, tedesco e spagnolo. Se invece impostate l'inglese come lingua madre potete avere un'infinità di lingue a vostra disposizione, tra cui per i fan di Game of Thrones l'alto valiriano, mentre per i fan di Star Trek c'è il Klingon. La seconda app di cui vi parlo è anche questa, una di quelle che uso un pochino di più spesso, è Memrise. Il concetto è abbastanza simile. Avete una scelta un pochino più ampia di lingue perché oltre alle quattro che sono disponibili su Duolingo avete anche cinese, russo, arabo, portoghese e giapponese, se non ricordo male. Appunto il concetto è molto simile, anche questa è gratuita e io mi trovo abbastanza bene perché è un'app che registra gli errori, vi cercherà di riproporre più spesso, diciamo così, le parole che non conoscete o su cui fate errori, quindi in modo tale da rinforzare un pochino la vostra memoria relativamente a delle parole che conoscete meno o che tendete più spesso a sbagliare, quindi assolutamente consigliata. Terza applicazione, sempre gratuita, è iNative. Anche questa la utilizzo un pochino meno, però è assolutamente consigliata se volete migliorare la vostra pronuncia. È un po' diversa da Duolingo e Memrise perché per l'appunto si basa sull'aiuto reciproco di vari madrelingua, quindi nel mio caso io sto imparando il tedesco, quindi posso fare tra virgolette una domanda alla comunità tedesca e chiedere se è giusta una pronuncia, come si pronuncia una parola, oppure se è più giusto utilizzare un termine rispetto ad un altro in una determinata frase. Allo stesso modo io che sono di madrelingua italiana posso aiutare chi sta imparando l'italiano alla stessa maniera. Altra app che in realtà non è solo applicazione perché potete utilizzarla anche da PC, se vi viene più comodo, è Busuu. Utilizzo abbastanza poco, però sostanzialmente è una raccolta di lezioni di lingua e vi dà anche la possibilità di entrare in contatto con dei madrelingua che per l'appunto vi possono dare una mano per quanto riguarda la correzione di esercizi sia scritti che orali che fate a casa, tra virgolette. Ultima applicazione di cui vi parlo è Accela Study, è un'applicazione che in realtà io non possiedo, però mi sono un po' informata perché per l'appunto è disponibile soltanto per iOS, per il momento almeno, e appunto ve la consiglio se volete magari darci un'occhiata, magari poi lasciate un commento qui sotto se appunto vi trovate bene o meno con le applicazioni che vi sto consigliando, compresa questa. Più o meno come Duolingo e Memrise vi porta a migliorare il vostro vocabolario in una lingua straniera. mi dicono che la scelta delle lingue sia piuttosto ampia per chi parla italiano, però appunto aspetto magari di sapere se c'è qualcuno di voi che la sta utilizzando per avere un'notizia più completa, diciamo così. La diversità sta nel fatto che si basa sul riconoscimento vocale, quindi non serve stare lì a schiacciare le risposte sul vostro schermo del cellulare, vi basta semplicemente parlare e appunto vi viene corretta o meno la pronuncia delle varie parole che state imparando, quindi vi lascia tra virgolette anche liberi di fare altro mentre appunto imparate una lingua straniera. Per questo ve la sto consigliando. Bene, detto questo io spero che il video vi sia stato utile, nel caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se appunto volete altri video di questo tipo o se appunto siete curiosi di conoscere la mia vita in Germania, appunto arriveranno altri video, prometto anche se il tempo purtroppo non è particolarmente clemente nei miei confronti e appunto c'è brutto tempo da un bel po' qua su. Se appunto utilizzate una di queste applicazioni o altre applicazioni gratuite fatemi sapere la vostra esperienza in un commento qui sotto, soprattutto se state usando altre applicazioni che appunto non ho nominato in questo video in modo tale da scambiarci un pochino di informazioni. Sempre qui sotto ma in descrizione trovate i link a tutti i miei social in maniera tale da seguirmi nelle mie avventure in diretta. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!